Benvenuti, volevo darvi un consiglio su come ridurre le porzioni degli alimenti consumati a scopo di dimagrimento e anche per aumentare la quantità di alimenti sani, senza pesare nulla. Secondo un'illusione ottica, l'illusione del boeuf, una quantità di cibo servita in un piatto grande sembra inferiore rispetto alla stessa quantità di cibo servita in un piatto più piccolo ed è semplicemente un'illusione ottica e potete provare a farlo anche da subito a casa. Come possiamo sfruttare questa illusione, questo principio? A scopo di dimagrimento potete ridurre le dimensioni dei piatti che utilizzate e semplicemente visivamente vi sembrerà comunque di consumarne una quantità adeguata. Spesso infatti è proprio l'illusione di mangiare meno che ci fa venire fame rispetto al vero e proprio senso di fame. Per aumentare la quantità di cibi salutari nella vostra alimentazione in generale potete iniziare a consumare questi cibi in piatti più grandi. Per ridurre la quantità invece di cibi meno salutari, quindi mi riferisco a quelli ricchi di grassi, di zuccheri, se proprio non riuscite a evitarli del tutto potete iniziarli a consumare in piatti più piccoli e il vostro cervello, la vostra mente sarà comunque appagata. Quindi è un piccolo piccolo trucco altrettanto efficace, quindi molto piccolo e molto efficace in cui potete fare una prova e farmi sapere come va, sono molto curiosa appunto di sapere come procede il vostro esperimento. Un'altra strategia da utilizzare è utilizzare piatti colorati, quindi non piatti bianchi perché ci fanno apparire lo spazio intorno al cibo vuoto e quindi visivamente abbiamo la percezione appunto di consumarne di meno. Piatti colorati e se preferite il colore rosso, il colore rosso riduce l'appetito. Quindi se volete appunto fare una prova e farmi sapere come va, potete scrivermi sulla pagina di Facebook, condividere anche questo video con persone che pensate ne abbiano bisogno e sono molto curiosa. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video.